un forte terremoto o meglio un fortissimo terremoto si è abbattuto in data odierna 22 giugno 2017 all'argo del guatemala vi ricordo che il guatemala è una nazione un paese che si trova in america centrale e che quindi fa da raccordo tra l'america del nord l'america settentrionale con l'america meridionale quella del sud quindi l'america latina perché si chiama latina molto semplice perché popolata da gente di origine latina insomma ritorniamo a noi c'è stato questo terremoto di 6.8 all'argo del guatemala che ovviamente ha provocato un bel po di distruzione e seri danni speriamo che non ci siano morti da come si legge nel web non c'è giunta non c'è pervenuta notizia di eventuali morti e o eventuali dispersi ciò però mi rende veramente molto triste perché qualsiasi terremoto ci sia anche quello più chiamiamolo strano quello più chiamiamolo duro quello più forte si tratta pur sempre di un terremoto grazie a tutti per l'ascolto e per la visione il video termina qua un saluto e a presto